Grande spirito di sacrificio, una dote in più di questo cuneo. Credo che la cosa principale è quella, è il sacrificio di tutti, si vede. A volte anch'io non è che ho la caratteristica di pressare, di recuperare palla, però a volte mi capita anche vedere che recuperi qualche palla e dico, sto recuperando palla anch'io, per dire. Quindi questi sono i spiriti, c'è un spirito di sacrificio che si è creato. Cioè è sempre stato, al momento è stato lasciato da parte. E il misterio Polino ci ha fatto uscire fuori. Possono essere queste però le partite decisive per una stagione? Sicuramente, sicuramente. Sono quelle fondamentali. Io ho pensato prima alla parte, se vinceremo questa partita, sapevamo che era difficilissimo. Che sapevamo che il Casale era una grande squadra. Una squadra molto forte, una squadra molto... Quello conta molto nella categoria. Mancano nove partite al termine della stagione, si può iniziare a fare qualche calcolo? Bisogna continuare a vivere la giornata? È inutile, non diciamo. Giustamente noi guardiamo, non è che non guardiamo. Però cerchiamo di guardarla, ma non lasciare di guardare la settimana, non lasciare di guardare il pensiero o quale sia. Se vediamo qualcosa che non va, parliamo tra di noi, discutiamo tra di noi. Quella è una forza del gruppo. Grazie.